Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di mercoledì 21 febbraio. Vi ricordo che questa sera avremo Matrix in seconda serata alle 23.30. Che cosa è successo oggi sui giornali? Tutti quanti i grandi giornali aprono su quello che sta avvenendo in Siria. Assad attacca i ribelli, secondo quello che è il cliché tipico della pigrizia dei titolisti e dei giornalisti italiani, sapete qual è il cliché tipico che quando c'è una guerra muoiono centinaia di persone? È strage di bambini. Poi dopo se vai a pagina 2 del Corriere della Sera trovi che la strage non sia solo dei bambini ma anche delle donne, donne e bambini. Quindi si dà il senso in questo paese in cui tutto quanto è uguale, uomo, donna, quota eccetera, che se la strage è fatta di donne e di bambini è più grave che se sia stata fatta di uomini civili che stavano in quelle città. A parte questa diciamo piccola riflessione sul fatto che siamo di una sciatteria straordinaria perché in tutte le guerre purtroppo muoiono i più deboli, anche perché i meno deboli sono lì a combatterla, la guerra basta fare questa analisi per capire perché muoiono bambini e donne, ma il pezzo migliore oggi forse lo fa per spiegare cosa sta succedendo in questa guerra lo fa Alessandro Orsini oggi sul Messaggero che spiega banalmente quello che avviene, cioè che ci sono in Siria due fronti, quello russo che la vuole unita e sotto il suo controllo e quello americano che poi è passato dalla dottrina Obama a quella Trump che la vuole divisa e soprattutto vuole uno stato cuscinetto al nord della Siria in confine con la Turchia dei kurdi che tanto hanno fatto per distruggere lo stato islamico dell'Isis. Se siete appassionati leggete il pezzo di Orsini che forse è quello più chiaro e che non dà alcun che per scontato sul Messaggero di oggi. Gli altri presumono che voi siate tutti degli esperti di politica internazionale e che quindi capiate esattamente tutti quanti i dettagli minimi della vicenda e in più ovviamente devono stupirvi e patele bourgeois dicendo che ci sono molti molti bambini morti che ci sono e che sono un dramma, ma penso che il dramma lì non siano soltanto i bambini, sia la morte degli civili, degli adulti, delle donne e la distruzione di un popolo. Chiaro? Bene. Andiamo avanti sulle questioni che sono avvenute oggi perché vorrei fare una rassagna non così lunga. Quello che è successo oggi secondo me di più incredibile è che picchiare un fascista in questo paese sembra non essere un reato. Va bene? Picchiare un fascista non è reato. Ieri nel pomeriggio mentre pioveva il leader di Forza Nuova, un movimento che è più a destra di Casa Pound, quindi è uno di quei movimenti che si possono a ben ragione definire di estrema destra e che si rifà ovviamente al fascismo e questo è fuori di dubbio, stava uscendo fa il tatuatore ed era il leader di Forza Nuova a Palermo, viene bloccato da sei o dieci persone incappucciate, va bene? Incappucciate, questi bigliacchi di merda. gli coprono, con uno scotch gli chiudono la bocca, gli bloccano le mani e le gambe e lo iniziano a picchiare a sangue dieci contro uno incappucciati con le spranghe e lo lasciano riverso al suolo, questo ragazzo lo lasciano riverso al suolo in una pozza di sangue. Questo è avvenuto ieri in una via centrale di Palermo. Allora, quando senti il sindaco di Palermo che dice no alle violenze ma parla di questi come di ragazzi e di antagonisti, è altrettanto colpevole anche lui. Quando non vedi il grasso e la boldrini che danno solidarietà a questa persona per terra, sono altrettanto colpevoli loro? Quando dici da venti giorni che il problema sono i fascisti e che bisogna distruggere i loro movimenti, sono anche colpevoli loro i fratoianni, i grasso, i boldrini per il picchiaggio, per quello che è successo ieri che ovviamente hanno fatto un tentato omicidio. Quando leggi il comunicato di questi deficienti ladri di libertà che scrivono, che hanno picchiato quest'uomo perché loro combattono contro il fascismo, sono colpevoli e sono responsabili morali anche la boldrini, grasso, flatoianni, bersani e tutti quelli che hanno parlato del fascismo negli ultime ore? No, perché se non sono responsabili morali, mi spiegate perché è responsabile morale del fascista che spara agli immigrati a macerata? Salvini, ve lo spiegate? No, io voglio soltanto sapere perché è responsabile Salvini di quella vicenda, come hanno detto Grasso, Boldrini, Flatoianni e tutta la sinistra organizzata, è responsabile di aver armato la mano di traini a macerata, mentre i nostri sinistri comunisti che vogliono che sia bandito il fascismo, sostanzialmente bandito dalla Costituzione, ma che ce l'hanno con Casa Pound, con Forza Nuova, allora loro non sono responsabili? No, io penso che nessuno dei due sia responsabili, però non mi sta bene che uno aizza l'odio e gli altri no, non mi sta bene leggere, considerato un bravissimo collega, io non lo metto in dubbio, sarà un bravissimo collega, vi leggo questo tweet di ieri, ve lo voglio leggere perché è una cosa che mi ha impressionato, adesso lo sto cercando, eccolo qua, è un giornalista della stampa che segue il Movimento 5 Stelle che si chiama Jacopo Iacoboni, bravissimo collega, che scrive torna a casa e vedo che c'è una tribuna politica, gli spazi elettorali regolati per legge con Casa Pound, è assurdo, abbiamo ridato dignità e legittimità al fascismo, in più abbiamo il lepenismo, Lega, e il trumptinismo, Movimento 5 Stelle, che paese è a rischio, che elezioni pericolose, e chi lo stabilisce chi deve partecipare a tribune politiche? Jacopo Iacoboni? Dobbiamo lasciarlo in mano ai nostri, come possiamo dire, gli va bene soltanto questo, strano che non ha messo Berlusconi perché fino a un po' di tempo fa c'era anche Berlusconi nella lista di un paese di merda, no? Movimento 5 Stelle no perché sono trampiani, Salvini no perché, cos'è Salvini? è lepenista, no Casa Pound perché è fascista, è assurdo, abbiamo ridato dignità e legittimità al fascismo, allora io posso dire se voi siete così preoccupati, è ovvio che poi a un certo punto ci siano 10 vigliacchi, vigliacchi, perché la vera cosa è il fatto che questi combattono contro il fascismo prendendo a sprangate sul cranio, capite cosa vuol dire prendere a sprangate sul cranio una persona? Io, è una cosa che non avrei mai voluto più rivedere e se lo fanno i fascisti? Sono disgustato quanto se lo fanno gli antagonisti, come li chiama Orlando, li chiama De Magistri, mi fanno orrore e queste sei persone devono andare in carcere come devono andare in carcere il pizzettaro egiziano che ha menato e il responsabile di a Scatasuna di Torino che hanno minato il carabiniere per strada, chiaro? Io lì vedo il fascismo, cari amici miei, non nella conferenza stampa e nella campagna elettorale di Casa Pound, non so se forse è chiaro, io vedo il fascismo nel fatto che si menano i poliziotti per strada, vedo il fascismo che non si può fare un tubo, la TAP a Lecce e oggi Emiliano su tutti i giornali si lamenta perché quelli della TAP hanno dato delle borse di studio, lì c'è il fascismo o no? Lì c'è il fascismo, anzi il comunismo, chiamiamolo con il suo nome giusto, non, ma vado avanti, ma vado avanti, perché in questo paese succede una cosa di questo tipo, c'è una preside, vedi oggi faccio i nomi, vi posso dire il nome della preside? Ve lo dico, ve lo dico il nome della preside perché me lo sono segnato, si chiama Paola Rizzo, è la preside di un istituto scolastico, in questo istituto scolastico un professore, a un certo punto c'è un bambino, Rom, perché non si scrive nei titoli, ma se lo leggete è un bambino Rom, che si può dire, un bambino Rom, che è in una classe di 20 persone, il bambino deve uscire a ricreazione, non può stare in classe a ricreazione, è una norma elementare, chi è un figlio lo sa, evidentemente altre volte questo aveva evitato di andare a ricreazione, il professore gli mette la mano sulla spalla qua e gli dice scusami devi uscire, non puoi rimanere a ricreazione, il bambino esce e ai suoi amichetti dice vedrete che gli farò qualche cosa a questo professore, bene, il giorno dopo arrivano fratello, padre e altro congiunto di questo bambino e picchiano, picchiano questo professore, lo picchiano, va in ospedale, il professore racconta tutto, denuncia questi Rom, dopo una settimana ritorna a scuola e la preside, Paola Rizzo, sapete che cosa fa? Apre un'azione disciplinare nei confronti del professore perché dice c'è qualche dubbio sul suo comportamento, c'è qualche dubbio sul suo comportamento perché gli ha messo la mano qua sopra e quindi è giusto che questo professore ovviamente, cioè che deve fare? Viene picchiato, cerca di, cioè la prossima volta, sa che cosa fa il professore? Se ne fotte, se ne fotte, se ne strabatte come il 90% dei professori che guadagnano 1100 euro al mese, ma se ne fottono quando vedono che un preside dà ragione al figlio che porta i genitori a menare il professore perché gli dà un rimprovero, chiaro? Avete capito che cosa? Cioè questo che cosa? Perché il professore è stato un fascista, aver voluto applicare la legge e la professoressa certo nel dubbio in questa correttezza politica mostruosa, oggi sul Corriere della Sera leggetevela questa storia, è una roba incredibile, la trovo, cioè hanno picchiato metaforicamente quel professore due volte, il primo i due genitori rom e il secondo la preside che apre un'inchiesta nei suoi confronti, ma tu devi dirgli grazie, bravo, scusasi se non ti abbiamo difeso, se non abbiamo già messo in galera dei rom che melano un professore, va bene? Altro che agenti provocatori, oggi è stupendo, sono un po' arrabbiato, è stupendo il pezzo di Cantone sul Corriere della Sera che parla degli agenti provocatori e spiega la differenza tra un agente provocatore e un infiltrato che non è data per acquisita per tutti, riguarda la questione di De Luca a Napoli per cui lì emergono chiaramente da questi video che ci sono delle persone che sono abituate a prendere tangente e stecche, uno schifo incredibile e quindi è bene che si dimettano e che anche qualcuno li persegua per quello che hanno rubato sui rifiuti, ma il punto non è questo, il punto dice benissimo, compito della giustizia penale, ci ricorda Cantone, leggetevelo Cantone, favoloso compito della giustizia penale è punire coloro che hanno commesso dei reati, va bene? Non coloro che si mostrano propensi a commetterli, non è semplice da capire? Non è semplice? Se tu sei propenso a commettere un reato, tu non devi essere punito in un paese normale e civile, chiaro? Non abbiamo i precox di Minority Report, io forse posso domani commettere un reato, non lo so, in potenza posso commetterlo, quando finisce la sticella, attenzione agenti provocatori, dice Cantone e sono completamente d'accordo con lui, questo non c'entra nulla che quella roba lì di Napoli è una schifezza, ma quelli che dicono mettiamo gli agenti provocatori si ricordino di questo aspetto della giustizia penale, che è la giustizia di un paese civile, anche perché ricorda che se gli agenti provocatori venissero utilizzati come sistema ci sarebbe un'arbitrarietà incredibile su chi mandarli, chi decide dove mandarli, come mandarli, quante volte mandarli, quante volte mi provocate a me? E prima mettete i soldi, poi mettete la droga, poi mettete la sigaretta, poi mettete il regalo, poi mettete la donna, poi mettete la mignotta come hanno provato a fare con Mucchetti, però ovviamente non erano agenti provocatori pubblici, erano privati, allora io mi chiedo dove ci fermiamo sugli agenti provocatori, si chiede giustamente Cantone e tutti coloro, conclude Contone, che si riferiscono agli Stati Uniti, attenzione perché dal 1930 con la sentenza della Corte Costituzionale degli Stati Uniti si è detto che la difesa può dimostrare, forse questo è il problema perché c'è un'inversione dell'onore della prova, che quella persona non avrebbe commesso un reato se non fosse stato provocato, quindi se un americano dimostra che non avrebbe commesso un reato senza la provocazione, viene assolto, quindi gli agenti provocatori in America ci sono, sì, sono molto discussi, sì, ma se chi viene provocato e commette un reato dimostra che senza provocazione non avrebbe commesso quel reato, viene assolto, chiaro? Questo è il sistema americano per quelli che si riempiono la bocca del sistema americano, grandissimo Cantone, ve lo consiglio di leggere. Padoan oggi, cornuti e mazziati, per perdiamo, viene nominato un ministro direttamente dell'economia spagnolo, grazie all'asse franco tedesco, mentre Calenda va lì in Europa, diciamo cerchiamo di contare di più perché danno le società all'est, gli danno gli aiuti e tutto quanto, noi in Europa invece sulle grandi cose stiamo zitti perché non ci sono i titoli dei giornali, il ministro dell'economia spagnolo passa dal ministero dell'economia come fosse Padoan direttamente alla BCE, uno dei sei uomini che contano nella BCE, come se Padoan si autonominasse nella BCE, solo che Padoan non si autonomina perché noi non avremo più dopo la scadenza di Draghi nessun uomo nella BCE perché hanno già fatto il pacchetto per cui ci sarà un irlandese, un francese, un tedesco, quando Draghi scaderà probabilmente un tedesco e quindi non ci sarà più nessuna rappresentanza italiana sull'unica cosa che conta in Europa, la politica monetaria. Ultima cosa, ho fatto tanto tempo di rassegna quindi non posso dilungarmi, bellissimo, secondo Claudio Cerasa e io me lo andrò a leggere con attenzione Steven Pinker che è uno psicologo evoluzionista che ci spiega per quale motivo il mondo in cui viviamo è sempre meglio, viviamo di più, siamo più sani, mangiamo meglio, cioè il catastrofismo del mondo che ci hanno raccontato e continuiamo a raccontare è una percezione indotta dai media, detta così vi sembra banale, il libro deve essere molto più bello, lo leggerò e lo recensirò per voi. Detto questo, vi do appuntamento a questa sera con 105 Matrix, oggi sono già un po' caldo e stanotte alle 11 e mezza come sempre con Matrix su Canale 5. Condividete questo video perché in un paese in cui un professore può essere picchiato e poi ridarguito da una preside e in un paese in cui ci si lamenta che Salvini aizza gli animi e non che Grasso, Boldrini e compagnia cantante fanno altrettanto insieme alla Repubblica parlando dell'antifascismo, beh insomma in questo paese c'è bisogno di indignarsi, ma che indignarsi, arrabbiarsi. Ciao!